buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz e benvenuti a questo appuntamento con i certificati turbo 24 andiamo a vedere la nostra sezione appuntamenti e come vedete oggi sarà un webinar diverso rispetto al solito nel senso che non andrò a fare un webinar eccessivamente operativo ma cercherò di fare un webinar quanto più possibile didattico da qui la scelta di farlo il venerdì pomeriggio in modo tale da poter diciamo dedicare maggior tempo a proprio all'analisi di questi nuovi prodotti e di quelle che sono le opportunità che vengono offerte ovviamente vi esorto ad utilizzare la sezione delle domande e delle risposte per farmi pormi i vostri quesiti e magari appunto arricchire quella che è la diciamo la nostra analisi su questi prodotti perché sicuramente trattandosi di un qualcosa di nuovo secondo me è molto importante che tutti quanti abbiano le idee molto chiare su quanto andiamo a vedere in questo momento quindi l'argomento di oggi sono i turbo 24 che sono dei particolari certificati ed andremo a vederli nel dettaglio io ho fatto e ve lo segnalo tra l'altro vi esorto a chi ha diciamo a scrivermi se l'audio è buono e si vede tutto correttamente però diciamo che io ho fatto una serie di video che trovate nella playlist a caccia di rendimenti dove vediamo quelle che sono le caratteristiche salienti dei turbo 24 quali sono e come funzionano appunto questi questi prodotti ed infine uno un po' più operativo dove vi spiego come aprire e chiudere un'operazione ovviamente quest'oggi noi cercheremo di fare un qualcosa di diverso ovvero cercheremo di andare proprio all'interno della piattaforma e rispondere alle vostre domande quindi darvi delle indicazioni però vi voglio dire una cosa che andando sul nostro sito investire.biz cliccando su turbo 24 verrete rindirizzati alla pagina di G dove trovate tutta una serie di informazioni i dati salienti quali sono sono sostanzialmente diversi primo è che questi prodotti sono quotati 24 ore su 24 e questa è una cosa estremamente utile nel senso che i g è la prima società al mondo che offre l'accesso a spectrum che è questa borsa dove è possibile appunto negoziare questi certificati 24 ore su 24 non solo questi prodotti sono negoziabili senza commissioni la cosa interessante le commissioni non vengono restituite o diciamo calcolate in maniera vengono ridate o cose di questo tipo no con i g funziona così funziona che voi le commissioni non le pagate non vengono restituite quindi il prezzo sostanzialmente che vedete in piattaforma è quello che poi effettivamente andate a pagare quindi se un certificato c'è un esempio semplice costa 2 euro e 30 noi pagheremo effettivamente 2 euro e 30 per comprarlo ogni singolo certificato quindi zero commissioni l'abbiamo visto sono disponibili 24 ore su 24 quindi un'offerta differente rispetto a quella che possiamo dire di universalmente riconosciuta di sedex e abbiamo la possibilità appunto di lavorare su diversi sottostanti e diversi livelli di knockout questo poi lo vedremo tecnicamente proprio all'interno della piattaforma una piattaforma una piattaforma dg vi segnalo che io ho attivato un conto e quindi sto vedendo bene come funziona posso dire che anche la piattaforma da mobile quindi da app funziona molto molto bene non vi sono rischi di cambio perché tutti questi prodotti sono quotati in euro e il prodotto è liquido e trasparente perché è quotato su una borsa qual è la differenza sostanziale prima di andare a fare un'analisi tipo tecnico che un cfd è un prodotto otc ovvero over the counter e quindi è uno strumento che viene negoziato e da come controparte diciamo quello che è il broker col quale si va a negoziare con tutta una serie di rischi di controparte eccetera eccetera il certificato turbo 24 invece viene negoziato come un prodotto listato è un prodotto listato e viene appunto negoziato sulla borsa e nello specifico la borsa è spectrum ovviamente mi raccomando domande fermatemi se ci sono delle richieste di chiarimento non esitate a farle perché capisco perfettamente che si tratta di un prodotto nuovo e quindi se avete qualche necessità assolutamente sono qui a rispondervi quindi vantaggi dei turbo del trading con i turbo 24 quali sono che puoi andare long short indistintamente senza problemi quindi uno può decidere di comprare un certificato long un certificato short la differenza rispetto al cfd è che voi di solito avete un prodotto normale avete un euro dollaro un contratto e potete decidere se comprare o venderlo qui invece abbiamo un prodotto per il long e un prodotto per lo short quindi ci sarà un certificato long che andrò a comprare per andare al rialzo ci sarà un certificato short che andrò sempre a comprare per andare al ribasso ok il rischio è limitato cosa vuol dire vuol dire che i certificati hanno un valore no e questo valore 2 euro 3 euro 4 euro per singolo certificato non può essere sotto zero quindi non può succedere che in fasi di gap di mercato cose di questo tipo il valore del certificato vada sotto zero e vi che vengano a chiedere dei soldi ecco questa dinamica non può succedere perché è come se fosse un'azione l'azione può andare al massimo a zero poi se va a zero fallisce buonanotte non hai più niente hai perso tutto però diciamo l'azione va a zero tutti i costi potenziali sono inclusi nel prezzo di apertura un accesso 24 ore e tutte le questioni che abbiamo visto prima come fare trading con il turbo 24 bisogna aprire un conto con i g potete farlo tranquillamente appunto dal dal nostro sito se volete quindi potete tranquillamente andare sul nostro sito cliccare qua sotto c'è il logo di g e aprire il il conto dal nostro sito poi e appunto poi seguire tutte le varie istruzioni a quel punto attiverete il conto turbo 24 e potrete tranquillamente operare e negoziare benissimo qui diciamo queste sono le le informazioni che dovete avere molto semplicemente apertura digitale quindi non avete grossi problemi potete fare tutto online il broker sostituto di imposta e se appunto viene utilizzato parecchio il conto che è anche un servizio che cosiddetto cosiddetto servizio premium benissimo quali sono i prodotti sui quali è possibile negoziare con i turbo non ve lo dico perché rivediamo in piattaforma quindi che cosa offre i g questa è la piattaforma di trading non c'è non ho messo niente perché giustamente dobbiamo costruirlo assieme no quindi dobbiamo vedere insieme quello che che si può fare gli strumenti sono su indici fx e materie prime quindi indici abbiamo wall street che è il dow jones germany fuzzi 100 sp 500 nasdaq cac mib ibex e l'indice svedese questi sono i nostri sottostanti a livello di indici faccio una carrellata e poi andiamo a vedere bene poi abbiamo valute e abbiamo tutti i principali cambi che sono gbp usd euro dollaro dollaro yen euro sterlina dollaro cata ud usd gb più yen e euro yen e poi abbiamo le materie prime molto semplice sono state inserite per il momento ovviamente l'offerta aumenterà tenete presente che i g offre questi prodotti da circa un mese e mezzo due non di più quindi questa è un'offerta possiamo definire iniziale no nel senso è un'offerta che i g sta facendo ma sicuramente verrà ampliata cosa viene offerta a livello di commodities oil e brand quindi petrolio americano petrolio inglese oltre all'oro ovviamente che è la commodity per eccellenza quindi questi sono i prodotti andiamo a vedere a livello di indici noi possiamo selezionare un indice che ci piace in particolare io andrei a prendere per esempio sp500 come vedete abbiamo il grafico a cinque minuti possiamo tranquillamente andare a scegliere il time frame che vogliamo poi ovviamente se voi già avete il conto con i g e sentite il bisogno di mettere per esempio i grafici di real time o altre cose nessuno ve lo vieta nel senso che avete tranquillamente la possibilità di fare tutto quello che che volete però la parte interessante qual è quella legata short e long e quindi i vari certificati quindi se noi clicchiamo su ve lo faccio vedere meglio se noi clicchiamo su allora indici sp500 long e short posso andare a vedere quella che è l'offerta per esempio long o quella che è l'offerta short molto bello perché i g già ci dà un'indicazione di quella che è la leva offerta ok quindi i prodotti sono ordinati per leva decrescente sia per il long sia per lo short i prodotti short sono di meno perché sono stati via via colpiti i livelli di knock out quindi i cosiddetti livelli di stop loss spieghiamo che cos'è il livello di knock out ovviamente se ci sono domande fermatemi se ci sono poche domande come in questo caso vuol dire che si sta capendo poco quindi mi raccomando non abbiate paura o timore a farle perché questo è un momento tra l'altro sponsorizzato dal broker ig dove io sono qua proprio a disposizione per darvi tutte le informazioni del caso quindi non abbiate timore siete in tanti collegati eppure siete siete così timidi so che è la prima volta che vedete un qualcosa di questo tipo per cui è normale che ci sia un po' di diciamo di titubanza però insomma sfruttiamo questo 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 tempo insieme allora abbiamo detto sono ordinati per leva abbiamo i livelli di knock out definiamo il knock out in maniera più semplice definiamolo come stop loss ok è più semplice quindi sappiamo che questo prodotto a uno stop loss a 3.173 3.203 3.219 e via dicendo fino a 3.397 quindi quello con lo stop loss più lontano ovviamente avrà una leva più bassa ok essendo questi prodotti strumenti negoziati all'interno di una borsa avranno il loro book di negoziazione partiamo sul long che forse un po' più semplice da vedere e vedete abbiamo il nostro livello di prezzo buy sell ma se noi andiamo a cliccare possiamo vedere anche il nostro book di negoziazione ok abbiamo diverse possibilità di ordini quindi possiamo fare il limite giornaliere l'esegui elimina valido fino a cancellazione e l'ordine a mercato ovviamente una cosa interessante secondo me mettere ordini al limite cioè cercare di inserirsi all'interno dello spread di negoziazione per cercare appunto di farsi eseguire vi faccio dei test allora supponiamo di volerci mettere all'interno del book su un prezzo particolarmente attrattivo rispetto a questi che vediamo adesso quindi facciamo 0 75 dovremmo finire più o meno qui ok quindi tra 0 e 65 che è questo cliente e 0 75 3 che è il diciamo il chi offre liquidità in questo sul mercato questi prodotti sono molto liquidi quindi in realtà non c'è un problema con riferimento all'esecuzione del nostro ordine però mettendoci a 0 75 finiremmo proprio qua a livello di book possiamo comprare il minimo di un certificato questo vuol dire che abbiamo un rischio ok abbiamo un rischio di del valore di un singolo prodotto quindi di 75 centesimi converrete con me che investire 75 centesimi assolutamente non ha nessun senso perché vuol dire che stiamo facendo un trade molto molto piccolo se andiamo a ragionare in euro ci rendiamo conto che 75 centesimi per un singolo certificato stiamo facendo veramente lo 0 virgola 0 e rotti diciamo stiamo facendo veramente una parte infinitesimale del del contratto vedete bisogna mettere secondo me degli importi un pochettino più più consistenti quindi adesso andremo a fare un calcolo per vedere quella che è la leva quello che voi dovete considerare secondo me è questo cioè quella che è il vostro rischio potenziale la vostra perdita cioè se il mercato dovesse arrivare a 3.075 noi perderemmo quindi 100 sono dai livelli attuali sono circa 75 punti ok punto più punto meno quindi vuol dire perdere comprando un certificato 75 centesimi 10 certificati 7 euro e mezzo 100 certificati 75 euro quindi un euro appunto sono 100 certificati quindi un certificato sull'SP500 sono un centesimo di euro appunto spero che questo sia chiaro per tutti quindi qui non è che ci abbiamo i contratti mini qui ci abbiamo i contratti micro dei micro ci abbiamo i nano contratti nel senso che effettivamente se voglio rischiare un euro appunto sull'SP500 devo fare 100 contratti 100 certificati turbo questo è importantissimo ok vediamo bene come si fa io quest'ordine lo metto perché non mi interessa diciamo è un trade talmente piccolo che io questo piccolo conticino che ho aperto lo utilizzo sostanzialmente per fare didattica quindi non mi interessa mettere quest'ordine quindi lo piazzo per farvi vedere come avviene poi l'inserimento effettivo dell'ordine vedete il nostro ordine qua 100 pezzi a 0 75 quindi ci siamo posizionati qua all'interno del book ovviamente quest'ordine lo troveremo all'interno degli ordini di apertura voglio eliminarlo e mettermi più vicino perché voglio farmi eseguire ok quindi facciamo un altro test SP500 long voglio prendere lo 0 75 questa volta mi vado a mettere a 0 76 ok in questo modo con 100 pezzi in questo modo io sarò il primo all'interno del book di negoziazione vado anche un po più alto sono meno efficiente non stiamo facendo analisi tecnica non stiamo cercando di capire qualcosa stiamo cercando di farvi capire come funziona la borsa effettivamente ok quindi mi metto qua per essere eseguito con quasi assoluta certezza ok ovviamente cercherò di farmi eseguire quindi nel momento in cui il mio ordine non dovesse passare mi metto ancora più vicino per cercare di fare passare il mio ordine però vedete 25.100 noi siamo primi e quindi dovremmo essere eseguiti per primi su questo livello del book l'ordine tornerà ad essere in ordini di apertura lo vedete qua ok ovviamente lo posso cambiare da qui vorrei evitare di cambiarlo perché voglio farvi vedere proprio come come avviene l'esecuzione quindi lo elimino visto che mi sta scappando il prezzo e lo vado a inserire nuovamente ok quindi long lo mettiamo questa volta 0.77 andiamo molto vicini ok non dovete tradare così eh cioè questa è dimostrativa questa cosa serve per farvi vedere come viene effettivamente fatto l'ordine cioè non è che dovete mettere l'ordine per farvi eseguire per forza cioè voi dovete individuare attraverso l'analisi tecnica un livello che può essere congruo e poi vi fate eseguire non è che andate a operare in questo modo ecco guardate siamo vicinissimi 770771 adesso vedrete che questo 100 scomparirà vi faccio vedere vi faccio vedere e vedrete che eccolo qua ci hanno eseguito ok io ho un po' di posizioni aperte quella che stiamo facendo in questo momento è os500 long vedete il nostro ordine è entrato a mercato lo vedete qui ok questo è il nostro ordine adesso cercheremo di uscire dalla posizione cercando di venderla quindi noi abbiamo fatto un ordine long abbiamo comprato se vi ricordate a 0.77 ora dobbiamo cercare di vendere a un prezzo superiore quindi a 0.78 in realtà in questo caso io voglio cercare di farmi eseguire quanto prima ok e quindi per farvi vedere come chiudiamo il trade cercherò di prendere un profitto veramente basso non mi interessa in questo momento ottenere un profitto ma quello che mi interessa è farvi vedere proprio il funzionamento ok quindi vi faccio vedere che questa volta il nostro ordine comparirà dall'altra parte perché perché non stiamo andando a a comprare ma stiamo andando a vendere abbiamo comprato un certificato o meglio 100 certificati long sp500 un euro appunto adesso li vogliamo vendere ok e li vogliamo vendere a 0.77 e 1 ok per fare un piccolo profitto vedete di qualche centesimo ma non è questo l'obiettivo del webinar l'obiettivo è capire come funzionano questi prodotti quindi andiamo a inserire il nostro ordine vedete siamo primi siamo primi e quindi qualora dovesse essere raggiunto questo livello verremmo eseguiti fillati e il nostro ordine passerebbe e avremmo ottenuto un una diciamo l'eseguito ora dobbiamo capire un'altra cosa che secondo me è molto importante ovvero come funzionano questi strumenti quindi mentre aspettiamo di avere l'eseguito e di guadagnare questi 10 centesimi netti andiamo a capire invece quella che è le informazioni questi sono prodotti listati quindi hanno un kid che potete scaricare da qui o potete scaricare da qui ok e adesso andiamo a vedere come funzionano la cosa interessante che cos'è il nostro moltiplicatore un centesimo per punto è quello che è il codice ISIN clicchiamo su kid nel frattempo aspettiamo che il nostro ordine venga eseguito e qui andiamo sul sito della borsa e guardate che cosa vediamo vediamo che a 0 77 alle ore 16 e 20 perché c'è un problema di fuso orario quindi l'ora di londra rispetto all'ora di londra alle ore 0 70 alle ore 16 e 20 10 secondi e diversi millesimi è stato fillato un ordine di 100 pezzi e qui vedete tutti gli ordini che vengono fillati a livello mondiale su questa cosa quindi sulla borsa tutti quelli che sono attaccati a questa borsa sappiamo che tre minuti fa ok è stato fillato questo questo ordine quando prenderemo il nostro eseguito quindi quando il nostro ordine verrà nuovamente fillato guardate lo mi sa che ce l'hanno fatto eccolo qua alle 16 23 15 mentre stavamo parlando è passato il nostro ordine a 0 77 1 andatevi a vedere la registrazione di questo trade così almeno vedrete proprio come come è andata quindi se noi andiamo nella piattaforma avete quell'ordine lì non lo troviamo più perché lo troviamo in cronologia vedete abbiamo acquistato 100 pezzi di sp 500 77 euro e li abbiamo rivenduti a 77 euro e 10 anche qui non è il problema i 10 centesimi il problema è capire effettivamente cosa stiamo facendo e come farlo ovviamente un trade che ha un po più senso è un trade con una size più più adeguata ok adesso andiamo a vedere lo stesso trade magari su un prodotto che ne so come euro dollaro cercando anzi euro dollaro ce l'ho già in portafoglio andiamo a fare qualcos'altro andiamo a lavorare su a o su sterlina dollaro ok sterlina dollaro questo è il nostro grafico giornaliero andiamo a mettere un grafico a 5 minuti e cerchiamo di trovare un'opportunità allora secondo me è un bel trade che potremmo fare per esempio uno short da dei livelli leggermente più elevati di questi che stiamo vedendo in questo momento quindi magari da questi livelli circa un 4 pips più alto rispetto a dove siamo adesso quindi clicchiamo su short io generalmente prendo sempre quello il prodotto che ha maggior leva qui dobbiamo capire una cosa questo prodotto ha un livello di ko a 1 32 e 27 quindi molto lontano perché siamo a 31 e 15 però abbiamo già una leva importante la leva è una leva a 80 volte quindi è già una leva significativamente importante cerchiamo io vorrei entrare short in realtà 31 e 20 ma visto che questo è un webinar live io cercherò di entrare a mercato praticamente a mercato no quindi vado a inserire il mio ho bisogno di un ordine di un euro e 65 ok e cercherò di mettermi in borsa anche in questo caso per avere un movimento di un dollaro a pip ho bisogno di ho bisogno di comprare 100 certificati quindi detto fuori dai denti in maniera molto semplice se io voglio comprare un euro a pipo un dollaro a pipo quello che è quindi un minilotto per dirla in maniera molto franca devo comprare 100 certificati se ne compro mille sto facendo un lotto grande ok quindi facciamo un minilotto per fare un po di didattica come funziona voglio andare short quindi devo comprare il certificato short il gbp usd certificato short ok quindi operazione da fare in questo momento che cos'è è andare a inserire il nostro ordine io lo voglio mettere a 1 e 65 ok 100 pezzi vado a inserire l'ordine guardate sono qua 100 pezzi sono all'interno del book di negoziazione vedete guardate quanto è stretto lo spread è veramente piccolissimo 1 e 65 6 1 e 66 e mezzo siamo sotto un pip di spread diciamo in realtà quello che è 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 quello che che i miei 100 pezzi scompaiono a brevissimo, guardate, guardate, manca poco, vediamo se passa il nostro bello ordine, manca veramente, eccolo qua, tac, eseguito, vedete, passiamo dall'ordine di apertura a posizioni, eccolo qua il nostro trade, vogliamo chiudere, quindi sell, lo posso fare sia dalla finestra di negoziazione, quella che abbiamo visto prima, quindi nella finestra di negoziazione, come dire, dove vado a inserire l'ordine, ma lo posso fare tranquillamente appunto anche dalle posizioni, cercando di chiudere la posizione e portando a casa il risultato, ok, quindi come faccio a fare profitto in questo caso? Molto semplice, sappiamo che ho comprato 1,65, voglio vendere a 1,65 e mezzo, ovviamente se andate a fare questo tipo di trade con delle sites un po' più importanti, è evidente che avete dei risultati migliori, qui stiamo facendo didattica, lo ripetiamo un'altra volta perché questo non è assolutamente un webinar operativo, è un webinar dove cerchiamo di fare quanto più possibile di dare un plus per farvi capire effettivamente come funzionano questi prodotti, ovviamente le domande sono sempre ben accette, mettiamo il nostro ordine, ecco guardate siamo primi, vedete, siamo primi qua, vedete ci siamo solo noi, ok? Adesso se il prezzo di GVPUSD, quindi noi andiamo qua su vedere GVPUSD, dovesse scendere un pochettino, magari sul grafico un minuto lo vediamo meglio, probabilmente il nostro ordine verrà eseguito, vedete abbiamo tre posizioni aperte e un ordine di apertura che è questo limit, quando ordine di apertura scomparirà e posizioni da 3 diventeranno a 2 avremo il nostro eseguito e il nostro profitto portato a casa, ok? Quindi andiamo a vedere FX GBPUSD, mettiamo il nostro traffico un minuto e cerchiamo di ingrandire, ok? Nel mentre che attendiamo di fare questo piccolo profitto vi do qualche informazione che secondo me è importante, allora uno dei vantaggi di questi prodotti è che si può negoziare tranquillamente con importi anche di carattere modesto, il secondo vantaggio è che potete appunto dosare la sites come preferite e quindi diciamo questo è sicuramente interessante, i sottostanti sono parecchi così come le leve offerte che come vedete col passare del tempo aumenta e viene incrementato in maniera significativa quello che è l'offerta di prodotto, al momento il numero di certificati disponibili è circa 400, ok? Guardate qua, ordine di apertura non ce l'abbiamo più, posizioni ne abbiamo due, andiamo a vedere la nostra cronologia, vedete che abbiamo fatto i nostri 50 centesimi, ok? Abbiamo venduto a 165, abbiamo ricomprato a 165, abbiamo venduto a 165 e mezzo, ok? Allora c'è una domanda, mi dite se, ecco qua, devo allargarla, ha senso usare le sites minuscole se non c'è il conto demo? Certo il conto demo non c'è perché stiamo parlando appunto di prodotti listati, quindi questi qui sono prodotti listati e di conseguenza il conto demo non è disponibile perché non è che possiamo inserire degli ordini in borsa così senza poi volerli eseguire. Queste sites che ho fatto io sono sites molto piccole, sono sites da ominilotti, quindi comunque sono sites assolutamente, diciamo, non particolarmente rilevanti, se vogliamo dire. Quindi, questo grazie per la tua domanda. Quindi niente, questi sono i sottostanti, quelle sono le sites, le abbiamo viste, ovviamente possiamo anche, se chi vuole fare magari edge, incoprire, possiamo tranquillamente lavorare su più certificati, quindi con livelli di stop loss differenti, avere anche, diciamo, dei livelli molto distanti. Guardate sul Daxport, ci sono fino a 10.700 punti, quindi distanti il 30% dai livelli attuali. Io in realtà ho preferito fare degli ordini un po' più aggressivi su questi strumenti proprio per questo motivo, cioè per cercare di... diciamo di... guardate qua, che strano, 1 e 1,50, 50 cent... ecco qui c'è un qualcosa di... che va va osservato. Vediamo se sono... è il knockout, 13.500, indice, Germany. Eccoli qua, ce l'abbiamo qui. Qui c'è qualcosa di... penso questo bisognerà osservarlo. questo è il... 13.257 con livello di knockout, ok? Benissimo. Allora, andiamo avanti e cerchiamo di dare qualche... qualche altra informazione, ok? Quindi cerchiamo di andare a vedere se ci sono delle altre opportunità sul... sul mercato, ok? Quindi cerchiamo di... volete vedere un prodotto in particolare? c'è un qualcosa che volete vedere, che vi interessa, vi stuzzica un po' di più? Così magari lo vediamo, lo vediamo insieme. Vediamo se c'è qualche domanda. Se no vi faccio vedere un altro inserimento di un ordine, vi faccio vedere qualcos'altro. Ok? Allora, ovviamente cercherai di stare più sul mercato valutario, più che altro perché in questo momento il mercato valutario, eccolo qua, abbiamo qua il dollaro yen, vediamo un attimo, mercato valutario in questo momento è più interessante, nel senso che si può tradare il cash non ha chiuso, insomma, quindi è più interessante. Allora, vediamo se c'è qualcosa di di bello su dollaro yen, su audi usd, vediamo, qui ci sono degli eccessi, questo potrebbe ripartire, proviamo a fare un longettino sul grafico a 5 minuti, scendiamo di time frame, vedete? Proviamo a fare un long, qua, andiamo a inserire l'ordine 0.76, 100 pezzi, inserisci ordine. Guardate, siamo qua, 100 pezzi, un minilotto, siamo secondi in questo momento però vedrete che ci eseguiranno quanto prima e cercheremo di sfruttare questa cosa. Ecco, per darvi qualche informazione in più, non è possibile vendere i certificati se non li avete in pancia, quindi come prima cosa dovete comprarli e poi potrete venderli per la medesima quantità, ok? Questo è giusto per vostra info, ok? Qui purtroppo il prezzo ci è scappato, sembra chissà che cosa, ma ci è scappato di un pimp, quindi vedrete che a breve ci rientra. Bene, rimaniamo in attesa su questo prodotto, vedete il nostro ordine è comunque tra gli ordini di apertura, ok? Quindi aspettiamo che venga eseguito. Bene, io direi andiamo avanti perché ci sono delle cose interessanti, voglio farvi rivedere tutte quelle che sono le operazioni che abbiamo fatto prima in cronologia, voglio farvi vedere questo strumento che è il GBPUSD, andiamo su FX, GBPUSD, il nostro trade era un trade al ribasso, ok? Quindi il nostro certificato era questo che ho selezionato, andiamo a prendere il nostro kid perché voglio farvi vedere effettivamente quelli che sono stati gli ordini passati, i nostri 100 pezzi, guardateli, sono questi qua, 1.65, 1.65, 1.50, vedete? È un prodotto listato, quindi i nostri ordini sono visibili, sono assolutamente registrati sulla borsa che si chiama spectrum. Bene, io direi già che ci siamo, andiamo a inserire degli altri ordini, io vorrei mettere un altro short come abbiamo visto prima, lo mettiamo a 1.63, quantità 101 pezzi, ok? Così almeno diamo un valore che è facilmente visibile sul grafico, eccolo qua, guardate qui il nostro ordine, vedete anche in questo caso siamo all'interno del book di negoziazione, funziona come le azioni, non è una cosa così strana, cioè funziona esattamente come il mercato delle azioni, funziona così. Ecco, guardate che ci hanno eseguito, eccoci qua, short GBPUSD, ok? Cerchiamo di chiuderla a questa posizione quanto prima, quindi andiamo a fare sell, abbiamo comprato a 62 a prezzi di 63, venderemo a 64, ok? Quindi andiamo a mettere il nostro ordine, lo guardate, lo vedete qua, sono i 101 pezzi, ok? Lo vediamo qui. Allora, domanda, mi fate, scusate, vendere un long sarebbe quasi equivalente a comprare uno short? Allora, qui è un meccanismo, Fabrizio, abbastanza macchinoso, nel senso che tu il certificato long lo compri, e poi il certificato long lo vendi una volta che l'hai comprato. Allo stesso modo, sullo short, prima compri un certificato a ribasso, se mi passi questo termine, e poi lo vendi, ok? Quindi se il mercato è sceso, il certificato a ribasso si è apprezzato di valore, ok? So che è macchinoso, ma è così. Qui trovate tra l'altro tutti gli ordini di apertura o meno, ok? Li trovate qua, e quindi questo uno è una chiusura, questo GBPUSD è una chiusura, e invece quell'altro è un ordine di apertura, quindi un'apertura di una posizione, ok? Questo è molto importante, ok? Questo è giusto per darvi qualche informazione. Se avete altre domande, io questo webinar vorrei, non vorrei protrarlo troppo a lungo, perché poi avremo le sessioni operative la settimana prossima, mercoledì a mercati aperti, alle 11 del mattino, anzi ve la segnalo, così almeno la vedete, ci sarà una sessione di appuntamenti, mercoledì faremo invece trading in tempo reale, cercheremo di fare invece un po' di profitti, insomma, su questi strumenti, quindi cercheremo di fare delle analisi anche. Ok? Guardate, stiamo andando in profitto, il che vuol dire che GBPUSD sta scendendo, vedete? Adesso dobbiamo vedere il nostro book di negoziazione per vedere se verrà eseguito, ok? Quindi andiamo sullo short, andiamo all'interno del nostro prodotto, siamo i primi, vedete? Se fa mezzo pip, ok? Ci eseguono e noi portiamo a casa il nostro piccolo profitto di un euro, però questa oggi è didattica, lo riportiamo ancora, vedete? Siamo i primi, adesso se qualcuno dovesse comprare questo certificato, comprerebbe da noi a 1,64, siamo i migliori in questo momento a vendere questi certificati, quindi il nostro prezzo è il più conveniente di tutti. Attendiamo, verrà eseguito quasi sicuramente, attendiamo e vediamo che cosa succede, quindi aspettiamo il fill. Ok? Ok? Benissimo, vediamo, vediamo qui che cosa può succedere, manca mezzo pip, vedete? è proprio veramente una sciocchezza, basta che Euro GBPUSD passi da 1,31 e 17 a 1,31 e 16 e mezzo e noi verremo eseguiti. Ok? Questo è un po' la nostra operatività, ok? Quindi questi sono i turbo, attendiamo questo trade e vediamo appunto se l'ordine viene eseguito. Ok? Io intanto passo a chiudere, appena avremo l'eseguito su questo strumento andremo a vedere se effettivamente ci sarà il kid. Nel frattempo, mentre aspettiamo l'esecuzione di quest'ordine, vi segnalo che è molto importante cliccare la i di info per trovare tutte le informazioni relative ai vari strumenti. Quindi ci sono anche i costi di finanziamento e tutte le altre attività. Ok? Un secondo solamente. Benissimo, quindi diciamo questo adesso purtroppo il prezzo si è spostato leggermente, quindi non lo hanno ancora eseguito, mancano 3 pip. Vabbè, attenderemo. Ovviamente in ogni momento possiamo uscire dalla nostra posizione chiudendo il nostro ordine. Quindi se riteniamo che questo movimento che abbiamo visto su euro, su sterrina dollaro sia troppo forte, possiamo tranquillamente uscire. Oppure possiamo decidere di comprare nuovamente per esempio 1,60 euro. Io in questo momento compro, metto il mio ordine e siamo a 1,60 euro. Quindi abbiamo messo un altro ordine di vendita, di acquisto in questo caso. Quindi siamo in acquisto a 1,60 euro e in vendita a 1,64 euro. Vediamo se verremo eseguiti, così vi faccio vedere come compare la nostra terza posizione sul grafico. Il nostro ordine è stato fillato, guardate abbiamo 201 pezzi. 101 li avevamo fatti prima, 100 li facciamo in questo momento. In questo modo è bello perché possiamo valutare, possiamo vendere altri 100 pezzi. Quindi abbiamo la possibilità di poter vendere altri 100 pezzi perché abbiamo già messo un ordine di vendita di 101 a 1,64. Adesso possiamo mettere per esempio un ordine di vendita di 100 pezzi a 1,62 per esempio e possiamo inserire il nostro ordine. Guardate, 1,62 siamo noi, 1,64 siamo sempre noi. Ok? Qui vediamo ovviamente il profitto e perdita in tempo reale. Ovviamente è qualche euro perché giustamente stiamo lavorando con sites veramente piccole. Qui nello specifico sul caso del DAX, che è una posizione che io ho utilizzato per coprire una posizione lunga in azioni, ovviamente i movimenti sono più importanti perché ci troviamo di fronte a un contratto più significativo. In questo caso, giusto per dirlo, sono 9 euro a punto per 13.000 punti, sono oltre 100.000 euro di esposizione. Quindi è normale che le variazioni percentuali e anche in termini monetari siano più rilevanti, siano più forti. Ok? Quindi niente, qui ci siamo noi, 60, 62, 64, attendiamo di essere eseguiti. Andiamo sul grafico, lo strumento è sterlina dollaro, siamo a short, aspettiamo che i nostri ordini vengano eseguiti, quindi aspettiamo che possa crearsi un movimento short. Ovviamente in ogni momento, questo lo diciamo e lo ripetiamo sempre, possiamo uscire dalla posizione chiudendo la nostra operatività e ottenendo una perdita. Per farlo però dobbiamo chiudere questi ordini, dobbiamo eliminare questi ordini pendenti. Ok? Questo è molto molto importante. Ok? Bene, questo è l'operatività. Domande, curiosità, ovviamente poi approfondiremo tutto nella sessione operativa, però io vorrei che ci fossero appunto da parte vostra delle domande. Fabrizio le ha già fatte, siete in tante ad essere collegati. Mi raccomando, se domandate pure, insomma, non abbiate timore. Ok? Se non vi sono altre domande, io non vorrei, diciamo, dilungarmi troppo, in quanto avremo poi una sessione veramente operativa. Vi esorto appunto, qualora vi fossero, nel lunedì pubblicheremo appunto questa registrazione, quindi qualora vi fossero delle domande relative a quest'operatività che abbiamo fatto vedere, non esitate a scriverci, a commentare sotto l'articolo e a darci le vostre impressioni. Da parte di Enrico Lanati, investire.biz, per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading.